Buongiorno, il secondo giorno di Fiera Cavalli, 125 anni di Fiera Cavalli, ma cambia di continuo, cambia sempre, cresce con noi. Oggi è qui con noi l'avvocato Alberto Franchi che ha ideato e guidato il gruppo di professionisti che ha studiato l'All Safety System. Sì, è così, ho avuto in carico dal presidente amministratore delegato e anche dal dottor Di Ruzza che è l'event manager di questa manifestazione, che è la 125esima edizione, il dottor Di Ruzza ne ha fatte 25, pensate, e la Fiera ha deciso, pur già in sicurezza, di implementare quello che è il sistema di sicurezza oggi necessario a fronte di tutto ciò che accade nel nostro mondo del cavallo, che ricordiamo è il secondo più pericoloso secondo la gradatoria degli sport. E il vostro sistema che avete implementato aveva quindi lo scopo di separare il più possibile i pericoli che potevano nascere dall'interconnessione tra visitatori e cavalli? Guardi, l'esigenza era quella di contemperare la vicinanza visitatore-cavalli, quindi evitare che, però evitando il contatto, cosa che l'anno scorso ha procurato diversi episodi molto spiacevoli. Quindi abbiamo la vicinanza cavallo-visitatore, ma in sicurezza, tenendo anche in considerazione, come le dicevo, il tema benessere degli animali. Come è andata la prova dei fatti? Perché era un sistema nuovo da implementare e l'avete visto realizzarsi davvero vivo in questi giorni. Guardi che fino a mezzanotte ho continui messaggi WhatsApp del gruppo Unità di Crisi, del quale faccio parte, quindi ho continue questioni che pur nonostante si verifichano, ma stiamo tenendo botta e tutto sta andando bene, è la verità. Deve essere veramente una situazione ansiogena, non vi invidio, però è una delle cose che ci accompagnano, questa evoluzione di Fiera Cavalli, questo è un ulteriore passaggio che riflette le esigenze del mondo moderno, c'è poco da fare. È un cambio di mentalità che dobbiamo avere, guardi vengono a un seminario sulla sicurezza nel mondo delle carrozze e i cavalli e ho avuto modo di discutere in maniera importante perché cerchiamo di evitare non solo delle sentenze di condanne, ma degli infortuni che a volte possono essere molto gravi. A proposito di infortuni, ieri in un altro contesto lei mi ha anticipato una notizia che ci riempie di gioia, perché Cavallo Magazine a questo tiene molto, cioè il fatto che cercherete di, avete presentato un progetto di legge che... Assolutamente, allora un progetto di legge che possa rendere obbligatorio al nostro mondo, ovviamente nelle manifestazioni sportive e l'obbligatorietà c'è già, ma rendere obbligatorio l'utilizzo del casco anche non nelle gare e questo naturalmente a fronte e a seguito di numerosi incidenti che accadono, pur consapevoli che andiamo contro a volte a certi cavalieri che non comprendono che oggi il casco è una necessità, come lo è stato per la bicicletta, come lo è per lo sci, come lo è per il monopattino e quindi anche il mondo del casco nel cavallo va normato. Perfetto, la sicurezza ce la dobbiamo mettere in testa, come abbiamo già detto tante volte qui a Cavallo Magazine. Avvocato, noi la ringraziamo tanto e contiamo di approfondire queste tematiche in futuro in modo più esteso. Grazie a lei. Grazie a lei di nuovo.